buongiorno business il podcast che parla di startup e imprenditori tra italia brasile e america latina tutti i mesi dalla collaborazione tra buongiorno san paolo e casa italia club l'intervista ai protagonisti un viaggio attraverso le sfide le difficoltà di chi ha investito all'estero e ce l'ha fatta è iniziato un nuovo buongiorno business cari amici oggi siamo qui con un consulente e un amico speciale walter bottaro benvenuto come stai tutto bene tutto bene valter oggi vogliamo parlare del brasile in una maniera un po più polemica perché vogliamo farvi vedere che in realtà buongiorno san paolo con i suoi contenuti non sta promuovendo il brasile così solo perché promuove il brasile brasile bello il brasile funziona ma vuole promuovere il brasile di una forma un po neutrale e far vedere anche i lati pericolosi e negativi che il mercato brasiliano stiamo parlando del mercato non delle persone sì assolutamente e per fare questo walter della bcco che è un'azienda di consulenza fiscale commercialista commercialista chiamiamolo banalmente ha fatto uno studio che mi ha portato qua molto bello io l'ho già letto sulla sul successo e distribuzione delle imprese italiane in brasile noi l'abbiamo voluto ribattezzare con un po di polemica quello che i consulenti non vi dicono del brasile la polemica è per la parte tua e io voglio fare un po di polemico io però concordi che il brasile spesso viene promosso molto viene appunto fatto vedere mostrato come un grande una grande opportunità è veramente una grande opportunità ma ci sono i dettagli che sono piccolosi e questo che secondo me si può essere sottovalutato quando vengono qua la idea di questa ricerca proprio è nata un po così io faccio professore anche io ho questa abitudine di fare ricerca per fini accademici e sempre ho avuto questa voglia di fare una ricerca più come dove sono le aziende italiane ma ma soprattutto come vanno perché abbiamo avuto un boom in brasile negli anni 2012 prima della coppa della mondiale al mondo si era anche della dell'olipide che il brasile è diventato proprio pubblicizzato in tutto il mondo sono venuto tante aziende qua la idea di questa ricerca non è neanche incoraggiare neanche scoraggiare perché io faccio il commercialista faccio il professore non è che vado a vendere i brasile vado a vendere tra virgolette un'opportunità sia un b a me a me mi interessa un'azienda che ha una vita lunga non che operano per due due tre anni poi se ne vanno ma l'idea è vedere e provare a capire quei dati senza diciamo influenza personale dicendo è ok questo sono andati bene questo è i dati che parlano l'idea è per questo ho preso proprio una metodologia che utilizzo proprio come professore con articoli accademici di di fare un'analisi molto semplice a una ricerca tra virgolette modesta ma statistica di vedere quali che sono andati bene e quello che non sono andati bene perché questo può aiutare quello che vengono un giorno nel futuro a fare i primi passi ma poi guarda Walter io penso che questo sia a parte un lavoro importantissimo per noi che facciamo contenuti podcast no per sul Brasile e soprattutto con le imprese italiane ma è un lavoro che raramente potrete trovare così facilmente sul mercato online perché a parte sono tanti numeri e sono ore di lavoro che tu hai impiegato ma ci sono anche delle verità scomode no cioè ci sono dei numeri anche molto pessimisti e il primo numero che voglio prendere che tu mi hai citato qua è che quasi la metà delle aziende italiane o di italiani in Brasile falliscono e chiudono 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 che il 49 per cento è importante capire l'intervallo temporaneo si dice così temporale e scusa per qualche errore italiano la lingua madre questo qua sono i dati disponibili anche pubblici dell'agenzia delle entrate nel famoso 6 di pejot informazione pubblica che ho trovato un team esperto nella parte di database che hanno incrociato le aziende con il locale da dove sono investitori il lavoro è un po fatto questo un lavoro diciamo di tutti informazioni pubblici attualmente l'agenzia delle entrate lascia 25 più o meno 25 anni di informazione diciamo tra virgolette precise delle entrate di aziende e uscite di aziende si prende per lo status di come funziona e ci sono dei numeri un po' interessanti guarda una cosa importante il percentuale del successo italiano e questa è una metodologia ci sono delle limitazioni questo è un lavoro che può essere anche migliorato può essere anche fatto lavori che si derivano di questa ricerca ma soprattutto la performance italiana è superiore a quella brasiliana questo è un punto interessante ah sì sì ovviamente abbiamo fatto un taglio si dice così un'analisi delle aziende che non solo quelle piccole e micro sì e queste aziende quando si comparano con il numero generale brasiliani italiani la media italiana è superiore cioè di successo di sopravvivenza esatto questa è una cosa interessante ma non è dettato cioè è proporzionale comunque è sempre proporzionale sempre percentuale percentuale tutto tutto qua il numero di percentuale è molto molto interessante quando si vede per esempio il settore dove l'italia è riconosciuta a livello mondiale per l'eccellenza industriale sì sì che ha una performance molto superiore quasi 70 per cento addirittura e questo è molto interessante per esempio in teoria le aziende industriali è proprio quella quella piccola e media azienda industriale italiana quando vengono qua in brasilia creano magari un piccolo un piccolo processo industriale proprio un assemblaggio semplice questo possono guadagnare vantaggi fiscale e con la qualità italiana che è proprio differenziata riescono a avere una performance molto interessante questo sarebbe qui abbiamo i dati ovviamente adesso li diciamo industrie di trasformazione esatto il 64 per cento è il tasso di sopravvivenza vogliamo guardarli un po' tutte così sfatiamo anche dei miti no? sì sì perché noi pensiamo no? a volte pensiamo al cibo la gastronomia l'hotel la posada aprire una posada in Brasile invece qua il dato più drammatico è proprio quello della ristorazione e gli alloggi alberghi posadas 26 per cento tasso di successo molto fuori direi che quasi l'ottanta per cento chiude e c'è anche un altro numero interessante che abbiamo analizzato la mediana degli investimenti e come mediana l'investimento italiano non è molto alto stiamo parlando di 200 mila euro quanto? 200 mila euro 200 mila euro la mediana degli investimenti italiani che è la mediana la mediana non è la media non è la media perché è la media questo è un po' di statistica faccio un po' professore professore di statistica ma perché ho voluto guardare un po' la mediana e la media perché abbiamo investimenti italiani qua di numeri assurdi sono gruppi come Ennio come Fiat che ovviamente cambiano la media aumentano aumentano la mediana invece è il numero che è proprio al mezzo come si ordina tutto in in maniera crescente è proprio c'è questo è un'analisi che si fa per per provare a a escludere gli estremi a escludere questi estremi sia quelle basse sì quegli altri e questo è più quella piccola e media azienda perché quando viene un'azienda e grossa grossa porta anche quelle piccole insieme e questo è interessante l'indotto tutto l'ecosistema e questo è un numero molto molto positivo perché quelle che sono più della parte industriale per esempio la la produzione della Fiat deve portare un fornitore che fa non lo so qualche pezzetto lì questo riescono a avere un valore differenziato di un lato molto negativo quello questo mi ha anche lasciato diciamo un po' scioccato alloggio riduzione della solda che magari è una persona è una ah voglio fare questo è un tasso di supervivenza molto molto basso 26% ogni 4 3 non sono andati bene questo magari quando provo a fare qualche analisi di questi due cosa mi viene in mente che magari questi sono quegli investimenti investimenti fatti di maniera meno strutturata cioè vado a provare vado a fare perché questa è la prima la prima lezione da imparare non sottovalutare la concorrenza locale e quegli esperti che sono quelli esperti del mondo Italia Brasile parlano di questo questo è bello quello che sempre ho ascoltato delle interviste degli esperti di portare investimenti in Brasile sempre parlavano di questo che la industria ma soprattutto non sottovalutare la concorrenza brasiliana e questo secondo me quando vedi questo settore che è un settore che diciamo la pausada brasiliana cioè questo diciamo è più difficile ma guarda solo l'esempio qua a San Paolo cioè tu prendi un quartiere come Villa Maddalena che è pieno di bar pieno 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 comunque pieno di bar anche che chiudono cioè ogni tot mesi apre un bar e chiude perché comunque ci sono quei 10, 20, 30 famosi che mantengono sempre il giro e hanno una storia e quelli nuovi che entrano intanto devono fare la gavetta devono sponsorizzarsi poi devono anche avere la costanza giusto? sì sì anche la conoscenza del mercato locale che questo è proprio le barriere di entrata non so se dici così sì sì le barriere di entrata le barriere di entrata faccio la migliore una cattina di ristoranti in Italia porto qua in Brasile va bene l'idea è buona ma è da capire per entrare in questo settore sì sì cosa ci serve perché questa la industria invece che la barriera di entrata sono molto più difficili per un concorre un competitor copiare la tua la tua attività invece nella parte di servizi stiamo parlando di di ristoranti di ristoranti di alberghi è più facile invece nel nostro settore informazione e comunicazione il 48% sono poche aziende la metà sono poche no perché questo è un numero che è interessante da guardare anche la quantità perché per fare un'analisi statistica non può avere solo 10 aziende per questo che ho lasciato anche altri perché quelli settori che sono che il volume era molto poco noi siamo in altri o siamo teoria teoria informazione comunicazione esatto quindi speriamo di essere in questo 48% ma la media ma il business non credo che in Italia sia anche molto diverso di questo fare imprenditori è proprio rischio per me sarebbe una sorpresa se fosse 80% del successo se no vuol dire siamo ma la cosa interessante è questo profilo perché l'idea di come è nata questa ricerca è proprio dare informazione non è io non sto facendo giudizio di valori non è che sto promuovendo perché io faccio commercialista perciò io in teoria lavoro più con quelle aziende che già stanno qua in Brasile io non faccio il lavoro di portare le aziende italiane qua in Brasile non è il mio faccio professore esperto fiscale contabile ma è bello vedere quelle che sono qua perché sono andati bene e l'idea è questa e quando si vede la parte industriale con una performance oltre il 60% è un numero molto interessante anche il trasporto stoccaggio è 68% è alto che sono quelle proprio che fanno tutta la parte delle servizi per importazione sono grossi aziende anche in questo settore Salivino del Bene Ventana Serra si si trasporti e sono aziende anche antiche nel senso sono in Brasile da anni e questo è un settore anche che diciamo ci sono anche quelle più piccole che comunque vanno magari anche loro agganciate ad altre aziende più grandi che devono fare dei cantieri che devono fare io per esempio quando lavoravo nell'altra società con la quale sono venuto qua in Brasile questa società era stata trainata dai lavori di Sangoban quindi Sangoban faceva dei cantieri in India e si portava dietro questa azienda faceva dei cantieri in Brasile e quindi poi si è nata la filiale brasiliana e una cosa che forse lo dirai nello studio ma non so se è rilevante ma il tempo di permanenza non so se si può chiamare così dell'azienda quanti anni è la media la media totale escludendo quelle che sono attive questo dato possiamo fare perché è facile la cosa più difficile per fare nel database ma stiamo parlando tra 7-8 anni ah quindi comunque durano 7-8 anni il problema è che questo dato è un po' limitato perché nella metodologia cosa prendo io prendo informazioni pubblici di questo Senepejota che sarebbe la partita IVA è la partita IVA numero di partita IVA esatto e cosa c'è lì c'è lo status dell'azienda se è attiva o se è chiusa per iniziativa liquidazione propria ma sono anche le aziende che o diventa inattive perciò non sta più facendo le pratiche le dichiarazioni l'agenzia mette in sospensione e fa inattiva l'azienda e questo chi determina questa data è la propria agenzia delle entrate per esempio negli anni 2018 ha avuto tante aziende che hanno chiuso per inattività perché non facevano la dichiarazione perciò questo numero è contaminato di quando l'agenzia delle entrate determina guarda se sei fermo per troppo tempo ti chiudo ma sei sette anni ma sette anni per te per un'impresa sono pochissimi o sono un tempo già è poco è poco perché c'è un altro fenomeno da guardare e questo ho voluto anche capire quando sono entrate queste aziende queste aziende che sono chiusi e ho visto un movimento che è proprio normale del boom che il Brasile ha avuto negli anni che antecessore se dici antecedenti antecedenti del mondiale 2012 noi c'è stato il picco un picco di aziende nuove incredibile e naturalmente qual è il feeling che ho avuto quelle aziende che magari sono venuto perché era un po' la moda il Brasile hanno incontrato in realtà più difficile erano uscite perché abbiamo avuto crisi economica anche in questione politica ma è interessante che è molto concentrato invece quello che sono arrivati più preparati anche quelli esperti dei mercati sia quelli italiani che lavorano qua hanno avuto un successo molto superiore ma Walter secondo te perché c'è questa cioè perché il Brasile deve essere considerato una moda cioè tipo per me no adesso ho tanti anni chiaramente no però mi viene da dire il Brasile è un paese in cui fare business come potrebbe essere gli Stati Uniti l'Australia cioè poi con le dovute differenze e i dovuti rischi però perché è una moda piuttosto che come mai più di una moda è il momento economico del Brasile era molto buono era dopo il secondo mandato del governo Lula c'era proprio un'atmosfera molto buona molto buona di crescita sì di crescita io sempre io lavoravo come revisore legali mi ricordavo che il Brasile quando abbiamo avuto le prime crisi io parlavo con i francesi ho lavorato con tante aziende francese e dicevo guarda il Brasile non era così buono come hanno pubblicizzato in 2007 2010 ma non è neanche così male come stanno parlando come stanno dicendo e questo è vero è vero adesso che stiamo uscendo diciamo un po' della perché era moda tra virgolette perché c'era di eventi il mondiale ha una forza economica pazzesca diventa la moda ma i numeri economici erano buoni erano molto buoni era un paese che c'era la pubblicità perché questi eventi attiravano e proprio per questo secondo me ha avuto questo sono tutti i fattori positivi per chiamarli aziende e magari sono entrate anche quelle che sono venute poco preparate o anche hanno affrontato una realtà più difficile perché c'è questo proprio boom che si vede nei grafici di quando sono aperti ma il Brasile mi ha chiesto ma perché il Brasile di moda secondo me il nostro lavoro come brasiliani che io sono primo brasiliano poi italiano di origine ma il nostro lavoro di marketing non è molto buono se vai in Italia io per esempio ho una famiglia in Italia parlo con la gente di Brasile loro hanno una immagine molto ma totalmente diversa della realtà e secondo me questo c'è due punti negativi di un lato ovviamente fa una pubblicità che non è molto buona e di un altro lato quello che che provano a venire qua dicono guarda ho scoperto ho scoperto il Brasile vado lì perché non c'è ancora e il mercato c'è perché quando viene nella realtà principalmente ci sono tanti Brasili dentro dei Brasili si dice Brasis qua questa sì 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 San Paolo è un'altra realtà che questo viene a un altro numero le aziende che sono venute a San Paolo hanno una performance molto più alta molto più alta infatti volevo parlare di questo perché comunque noi a parte che ci chiamiamo Buongiorno San Paolo però noi cerchiamo anche di promuovere quello che è lo stato di San Paolo la città di San Paolo perché è anche quello che conosciamo meglio se guardiamo questi numeri chiaramente cambiano cioè i tassi di sopravvivenza si alzano anche nei settori in cui si va male esatto quindi per esempio parlavamo prima informazione e comunicazione per il Brasile 48% il tasso di sopravvivenza per San Paolo il tasso è 55% che è già la metà più della 72% l'industria è 72% la costruzione è quella un po' più bassa 46% attività immobiliare 69% quindi sono già numeri molto più alti è anche la parte principale perché San Paolo è un grande hobby per le aziende non italiane ma tutte le aziende qua l'economia un terzo del pil brasiliano è qua ma quello che vengono qua magari perché questa è una delle conclusioni che io provo a fare perché cosa provo a fare prendo questi numeri provo a collegare con informazione che già conosco con la mia vivenza come si dice con la mia esperienza è una cosa che posso capire che San Paolo magari sia perché c'è un'economia più dinamica ma sia perché la mani di opera è molto più qualificata qua crea un hobby perfetto per le aziende anche se fa un'importazione perché anche l'attività commerciale a San Paolo hanno una performance superiore in teoria faccio solo l'importazione in Brasile dove vado vado a Santa Catarina perché c'è un regime agevolato dicemì però poi dopo dove vengono dove vengono questo è da valutare bene ovviamente se c'è un regime fiscale molto positivo è da valutare io sono il primo come commercialista andiamo di là ma San Paolo mostra questa questa performance proprio diciamo sopra la media però Walter dobbiamo anche parlare un po' male possiamo parlare male di questo Brasile non c'è mare non c'è mare no 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 parliamo male prendiamo i fanalini di coda degli stati senza qui in cui non si sta discriminando le persone business e anche sono numeri che non è che sono gli stati che vanno peggio nei quali le imprese italiane sono andate peggio sono Bahia giusto 34% il tasso di supervivenza in realtà questo è diviso per quelle che hanno più volumi di aziende ok quantità questa è una cosa molto interessante il nord est non aspettavo la quantità di aziende italiane ma anche io secondo terzo e quinto posto sono tutti i stati dei nord est ma sono tutti italiani che scappavano dall'Italia e venivano scherzo l'ho detto io lo posso dire no ma secondo me quali sono quegli investimenti magari vado a fare un ristorante vado a fare una piccola catena di alberghi e questo provano una difficoltà maggiore ma anche economicamente noi sto parlando male di UAM nord est la Bahia specialmente ho proprio il cuore un po' baiano ma una cosa l'attività economica è meno dinamica non è che di nuovo non c'è la formula secreta del successo ma ci sono ovviamente quelli settori quelli di qualità che erano più qualità per sviluppare un'attività invece un'altra per esempio Minas Verais anche se ci sono poche aziende c'è tutto un ecosistema un po' industriale che gira intorno del gruppo Fiat che funziona ma è un altro tipo di investimento perciò il nord est purtroppo ovviamente ci sono le aziende italiane al nord est di successo anche industriale c'è c'è un investimento grosso se non mi sbaglio a Pernambuco sì sì della Fiat sì per questo sempre guardare a piccole dose le informazioni perciò per capire se ma nella media possiamo dire che sì sono i stati perché è più difficile fare imprenditori in nord est non solo italiane anche i brasiliani è normale c'è la difficoltà maggiore della monopera logistica logistica economia è questo ma anche c'è l'opportunità certo anche l'opportunità io ho lavorato per l'azienda francese che ha aperto una fabbrica proprio per esplorare quello mercato e vanno bene noi conosciamo facciamo la marchetta i nostri amici di smart city che stanno a fortalesa nel nord est e loro costruiscono delle città intelligenti ci sono poli innovativi a Ressif anche per questo ovviamente per carità la mia idea di questo e ho fatto anche un disclaimer in queste ricerche di dire guarda non sto qua per parlare bene neanche per parlare male la idea è capire un po' a dare informazioni guarda io voglio fare un investimento industriale ok magari San Paolo o Sul di Brasile è il posto più interessante però allora vediamo Bahia e Seara sono 34-37% il tasso di sopravvivenza poi gli altri quelli che hai elencato perché poi ci sono anche quelli che non sì perché per guardare per fare qualche analisi statistica sempre che viene di più il numero delle aziende diventa anche se un gruppo sono 10 aziende però gli altri poi sono a parte Rio de Janeiro che è 46 che sta sotto il 50% però gli altri sono tutti sopra a Minas Gerais Santa Catarina Rio Grande do Sul il Paraná e Spirito Santo e gli altri sono elencati tutti insieme e questo è interessante il profilo di queste aziende a Minas Gerais a Santa Catarina anche a Rio Grande do Sul c'è un profilo molto industriale ah sì? è questo c'è una performance sono poche aziende veramente in numeri ma aziende industriali industriali e questa è una industria e l'industria arriva preparata non arriva così anche se ha un piccolo processo industriale perché in Brasile per esempio per fare la produzione la produzione locale ti costa ti costa di più dei costi di mani d'opera magari qualche cosina ma quello che succede fare l'importazione si paga tante tasse per importare questo è il problema invece se ha un pezzo della produzione dentro del Brasile può ottenere i vantaggi economici questo magari ma secondo te giusto per dare anche un po' la morale della favola di questa favola di questa bella favola del successo delle aziende italiane in Brasile secondo te quali sono i problemi principali cioè c'è la mancanza di informazione la mancanza di preparazione ci sono problemi fiscali amministrativi ci sono delle cose che tu reputi essenziali che non vengono fatte da tanti imprenditori guarda secondo me anche per esperienze perché ovviamente già è successo con me delle aziende italiane che sono arrivata già da qualche anno in Brasile poi hanno chiuso perciò ho vissuto un po' questa questa situazione e la prima sicuramente è o la mancanza o la poca ricerca di mercato perché questo secondo me è una questione molto il Brasile sembra semplice anche perché magari riesco a capire il portoghese perché a San Paolo il portoghese c'è un po' l'accento italiano anche sono a casa ma è molto diverso nei piccoli dettagli e senza fare una ricerca di mercato in maniera adeguata guarda io non faccio ricerca di mercato non sto vendendo il mio lavoro ma io dico per esperienza ci sono dei professionali che lavorano che sono esperti in questi ma fare una ricerca prima di venire proprio di maniera ricerca approfondita ti aiuta a ottenere successo questa è la prima cosa perché io ho già visto aziende che sono venute in Brasile perché ho cominciato a vendere ho trovato un player andiamo dai vediamo ovviamente sto dicendo in maniera molto collochiale anche ma è un po' questo senza capire bene guarda come funziona questo mercato in Brasile non sottovalutare i brasiliani che sono qua perché ci sono anche genti le aziende economicamente difese questa per me la mancanza della ricerca di mercato è una prima e la seconda succede tante piccole e medie aziende che vengono con questi grandi investimenti o perché o anche per esempio il settore testile come si dice tessile tessile la parte l'Italia è molto forte in tutte le parti industriali per le macchine ma nel settore dei testi le macchine italiane sono molto molto buone hanno proprio una distaccata qualità venire qua è importante queste piccole e medie aziende vengono anche da solo hanno trovato un distributore locale e vengono magari ci sono dei consulenti che chiedono i prezzi magari proibitivi ma venire da solo senza un appoggio minimamente a questo dico un po' di amministra fiscale un appoggio di un commercialista e anche di un buon avvocato ma soprattutto uno che riesce a capire la parte fiscale anche la parte dei contratti cosa può fare cosa non può fare può aiutare perché venire da solo perché magari la consulenza di un esperto questo può costare molto di più nel futuro questo è anche perché ho visto questo per il numero dei piccoli e medie aziende che ci sono sono tanti questo secondo me è questo e non sottovalutare che è il primo punto la concorrenza perché quando guardiamo i numeri perché la industria va bene perché non c'è industria ma non stai scherzando il Brasile non è un paese il Brasile non ha tanta industria come l'Italia ma è vero la nostra industria purtroppo per tante questioni politica è stata sempre ogni anno più bassa ma il macchinario a noi ci serve il macchinario l'Italia è brava in questo ma mi stai dicendo vado in Brasile a fare la produzione no ma magari fai un piccolo o anche il mercato perché la performance della parte commerciale a San Pablo è del 60% anche non è poca ma è provare a vendere un prodotto che già abbia successo in Italia non provare a vendere a vado a esplorare questo settore perché non vendo bene in Italia provo a vendere perché ho già visto questo proviamo a vedere se questo prodotto va questo secondo me la cosa più importante è questa non venire da solo ma fare una ricerca perché se no Walter grazie io ti ringrazio perché questi sono momenti importanti anche per definire bene quelli che sono i rapporti fra Italia e Brasile lo ripetiamo spesso tante opportunità però aver schiaffato in faccia i dati della realtà che spesso non vengono raccontati è stata importante io ringrazio tanto Alessandro sei un caro amico grazie e questa ricerca ho fatto di maniera molto modesta non l'ho fatto con la pretensione di essere perfetta ma io conosco i dati dalle insieme entrate proprio per la mia attività e anche come professore sono abituato ho messo queste due cose insieme per vedere prova a capire i numeri e proprio per aiutare le aziende per aiutare perché ci sono quelle che vanno avanti e vanno molto bene magari quello che provano a promuovere i Brasili sono interessati che venga qua io come commercialista sono interessato che venga e che resti qua per anni e questo è l'appoggio che mi piace e queste informazioni sono tutte pubbliche e la idea propria c'è anche iscritto nella ricerca poi ti chiedo di lasciare il link perché c'è anche tutta la metodologia che è stata lasciata per poter aiutare più di quello che ho parlato la mia idea è i numeri parlare da sé loro parlano molto meglio di me questa è idea da capire e ovviamente l'idea della BCCO ogni anno è migliorare questa ricerca per aiutare le aziende anche se non mi occupo con queste cose di la parte del mercato ma sono le date che a me mi piacciono io volevo capire quali sono i numeri perché ci sono tante piccole aziende italiane che magari proprio la proprio sistema Italia non conosce che c'è dentro sono tanti piccoli questo è il profilo italiano quelle piccole e medie aziende che io solo per non allungare di più ma sono stato un'azienda a Lombardia con 30 dipendenti che loro facevano una valvola proprio che vendevano per la Petrobras l'azienda loro avevano una tecnologia che è un'azienda che c'era 30 dipendenti quanto fatturava? 100 milioni di euro ma non era neanche tanto ti dico ma questo qua riusceva a vendere a una dei più più importanti aziende in Brasile perché aveva la tecnologia proprio e questa è l'Italia è piena l'Italia è piena di queste aziende ogni tanto vengono qua da solo e la idea è proprio vedere un po' questo comportamento Walter grazie noi speriamo di rimanere nel 51% delle aziende che ce la fanno a San Paolo ci salviamo grazie Walter grazie buongiorno business alla prossima l'episodio di oggi è stato offerto da Dollare se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia trasparenza e agilità allora Dollare è la tua scelta richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br hai bisogno di cambiare? rivolgiti a Dollare